Si lavora senza sosta a Bello Lampo per lo spegnimento del ruogo divampato sabato scorso. Secondo la Procura di Palermo, che ha già aperto un'inchiesta contro i gnoti, ci vorrà almeno un mese prima che la discarica possa tornare funzionale. Il sindaco La Luca Orlando punta il dito contro la gestione dell'AMIA e dopo aver inviato una lettera al Ministro per lo Sviluppo Economico, ha emanato in via cautelativa un'ordinanza sanitaria e tutela della salute pubblica. Intanto i palermitani continuano ad osservare la nube biancastra sprigionata dalla combustione. Vapore acqua per i tecnici dell'ARPA e l'assessore comunale alle partecipate Cesare Lapiana, sebbene non siano ancora stati forniti i dati relativi alle rivelazioni sull'aria e le falde acquifere. Mercoledì prossimo, intanto a Palazzo delle Aquile, ci sarà un incontro pubblico tra cittadini, associazioni ed esperti. Cosa sta succedendo? C'è di ossina nell'aria? Abbiamo il diritto di saperlo, dice l'ambientalista Federico Bruno, che lancia alle istituzioni il proprio appello. Siamo qui per chiedere al sindaco, all'ARPA, all'enti competenti su questa cosa, cosa sta succedendo? Il fuoco ancora ci hanno detto che non è domato, però il corpo forestale, la professione civile e i vigili del fuoco stanno lavorando, allora cosa può succedere? Cosa può fare questo fumo? Se c'è di ossina nell'aria, se non c'è di ossina nell'aria, se è solo vapore acqua o come hanno detto. Vieni a visitarci su www.sicilainformazioni.com Ovunque, in tempo reale.